Elisabetta Gregoraci è sempre più innamorata e una fonte a lei vicina ha fatto un'ammissione davvero senza precedenti riguardo alla sua nuova storia d'amore. Sono ormai lontani i tempi della dolorosa separazione da Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci è davvero rinata e sembra aver finalmente trovato l'uomo perfetto per lei. Non solo. Le cose stanno andando molto bene anche dal punto di vista professionale. Dopo il successo di Battiti Live, durante il quale, però, è stata ampiamente criticata per le sue capacità di conduzione, considerate molto scarse, pare abbia in cantiere numerosi altri progetti interessanti. Ma chi è il nuovo fidanzato di cui per molto tempo si è parlato sulle principali riviste di Gossip? Il fascinoso imprenditore Giulio Fratini, che in passato ha avuto relazioni con showgirl di rilievo come Raffaella Fico e Roberta Morise. Proprio con lui la Gregoraci è stata avvistata questa estate al Tuiga di Briatore e per le strade di Milano e tra i due sembra esserci un grande affiatamento. Elisabetta Gregoraci, la missione senza precedenti sui sentimenti verso Giulio Fratini stando a quanto riportato da una fonte molto vicina alla Gregoraci, Fratini per lei sarebbe, il grande amore tanto atteso.